Iniziò la sua carriera nei locali della sua città natale, verso la fine degli anni 30. In quel periodo, Torino era un ambiente molto vivace dal punto di vista musicale. Anche Fred Buscaglione muoveva i primi passi esibendosi nei Night. Ernesto Bonino ottenne un'audizione a Leier grazie al maestro Carlo Prato, che aveva già lanciato il trio Lescano. Il suo debutto radiofonico avvenne il 5 gennaio 1941 con la canzone Tango Argentino. Fu subito un successo, a cui ne seguirono molti altri. La Paloma, se fossi milionario, la famiglia Canterina, cantata insieme al trio Lescano. Azzonzo, musica maestro, il giovanotto matto, uno dei suoi più grandi successi. Composto da Lelio Lutazzi, ti comprerò l'armonica, conosci mia cugina. Negli anni 40 Ernesto Bonino, soprannominato Mr. Swing, grazie alla sua voce chiara e disinvolta. Perfetta per il ritmo sincopato. Rivaleggiava in popolarità solo con Natalino Otto, Oscar Carboni e Alberto Rabbagliati. Nel 1947, Ernesto Bonino partì per una lunga tournée in America Latina. Peru, Argentina, Cile, Brasile, Venezuela, Messico, Cuba. In coppia con Tina de Mola conquistò l'Havana con la canzone Chinito Chinita. Nel 1952 si trasferì negli Stati Uniti, dove realizzò il suo sogno di cantare i classici del jazz nei migliori club di New York, Chicago e Miami. Rientrò temporaneamente in Italia solo nel 1955, per partecipare alla commedia musicale di Garinei e Giovannini la Granduchessa e i Camerieri. Con Vanda Osiris, finita la stagione teatrale, tornò a lavorare negli USA fino al 1958. Ernesto Bonino partecipò un'unica volta al Festival di Sanremo 1962, piazzandosi al terzo posto con la canzone Gondoli. Gondola scritta dalla coppia Carosone-Nisa. Dopo il Festival, Carosone lo ingaggiò per il suo spettacolo, che portò in giro per l'Europa. La popolarità di Ernesto Bonino si spense però dopo quella fortunata tournée. Negli anni 70 e 80 fu talvolta ospite in televisione. In brevi apparizioni canore che rievocavano la musica del passato. Ricordiamo la sua partecipazione a trasmissioni come Mille Luci. 1974. Con Mina e Raffaella Carrà. E cari amici vicini e lontani. 1984. Condotto da Renzo Arbore. Nel 1986 Bonino perse la voce in seguito ad una operazione. Nel dicembre 2000 lo Stato italiano gli assegnò un assegno vitalizio in base alla legge Bacchelli. Dal 23 aprile 2003 fino alla morte fu ospite della Casa di Riposo per artisti Giuseppe Verdi di Milano.